signori prof la prova inconfutabile con ugo io vi non so come si legge la secolo ugo even sarebbe presente il signor smith di matrix ecco qua il protagonista non so perché hanno messo la cell crow forse più famoso non so cosa ed è bravissimo film molto 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 bello rassel crow giovanissimo qua delle immagini sembra già più vecchio posso assicurare che un film da vedere voto 8.3 veramente più c'è una tipa che fa la bastarda veramente bello basta così dico altro un saluto a tutti se volete iscrivetevi al canale se volete lasciato like ciao ciao